Martina e i Capricci di Mary Grigione Il magico incontro fra una bambina e una stellina Possibile! Cos'era quel puntino che precipitava dal nero profondo? Ehi, abbasso i tuoi fari! Cosa? Rispose stellina Va bene così? Sì, meglio. Come ti chiami? Stellina Avrei potuto anche indovinarlo E tu? Martina Arrivi da Marte? Ma va! Ma che dici? Su Marte non ci vive proprio nessuno. Abito sulla Terra. E tu? Sulla Via Lattea Caspita! È tanto lontano! Stellina senti scendere le lacrime Ho tanta paura. Come farò a tornare a casa? Su, nel cielo. Prima che il grande sole arrivi Come hai fatto a cadere dal cielo? Mamma grande stella mi teneva in punta per non perdermi Ma io non volevo Così ho iniziato a fare i capricci Mi è venuta un'idea Come farà stellina a tornare a casa? Perché Martina non riusciva a dormire? Mi è venuta un'idea a tornare a stare a casa? Grazie a tutti. Grazie a tutti.